L'Imu sulla prima casa pagata nel 2012 sarà restituita e nel 2013 quella sulla prima casa non si pagherà per nulla o solo per metà e dal 2014 quando l'Imu dovrebbe essere sostituita con una nuova imposta sulla prima casa si pagherà ancora e se la nuova tassa service tax cosiddetta dovesse davvero unire i muettare se la tassa sui rifiuti come distinguere poi tra quanto è dovuto dal proprietario e quanto invece dall'inquilino sono solo le prime delle domande che gli italiani si pongono da quando del giugno scorso il governo Letta decise di sospendere il pagamento dell'Imu rinviando tutto al 31 agosto domani cioè giorno del consiglio dei ministri che dovrà per forza di cose tirare fuori dal cilindro la soluzione perché in questo caso la domanda diventa tutta politica il governo Letta regge o non regge perché è intorno all'Imu che si sono più beccate in questi mesi le componenti della maggioranza ognuna sulle sue posizioni il PDL granitico sull'abolizione quanto alla restituzione non se ne parla più il PD aggrappato al termine rimodulazione invece che vorrebbe dire esentare dal suo pagamento le famiglie meno abbienti riservando la tassa solo ai più ricchi domani si capirà se il caso Imu è più simile a un collo di bottiglia o al classico cul de sac vedremo se tra le tante soluzioni scovate, vagliate, proposte ce ne sarà una a forma di ciambella per il salvataggio caso Berlusconi a parte del governo Letta in mezzo tra PD e PDL ci sono i comuni c'è l'obbligo del pareggio di bilancio ci sono i 4, 4 miliardi e mezzo di euro che sarebbero arrivati dal pagamento dell'Imu ci sono le famose coperture da garantire su cui il governo è impegnato da tempo uno, forse due, anche questo non è chiaro ancora quelli da trovare una cifra tale da far salire nelle ultime ore l'ottimismo da entrambe le parti politiche qualsiasi decisione arriverà non potrà evitare però di fare i conti con due ostacoli tutt'altro che facili e che affondano nei guai della burocrazia italiana l'inaffidabile quadro fiscale del paese e un altrettanto arretrato e caotico sistema del catastro lo stesso che il governo Monti disse di voler riformare la parola d'ordine era a suo tempo adeguamento ma sul quale alla fine intervenì solo nel modo più semplice e lineare l'aumento generalizzato di tutte le rendite catastali